Sicurezza nelle comunicazioni via internet, messaggi elettronici che si autodistruggono dopo averli eletti, colleghiamoci con il mio server su serveresperimentale.wfdns.org residente su scheda raspberry su questa scheda, scorriamo la pagina e apriamo zero bin, ok, barriamo la voce barn after reading, brucia dopo aver letto e scriviamo il messaggio, questo è un messaggio di prova, ok, inviamo send e a questo punto ci viene fornito un link che noi copiamo, ok, poi andiamo a aprire un'altra finestra del browser e incolliamo il link che abbiamo appena copiato, ecco, ci troviamo, questo è un messaggio di prova. se noi proviamo a ritornare su quel link appare scritto che il messaggio non esiste perché è stato cancellato, perché ha finito il suo scopo, è stato letto. tutto qua, il servizio è fornito dal sottoscritto col mio server serveresperimentale.wfdns.org su scheda raspberry ciao a tutti